Andiamo a sentire Elena Curtoni al microfono di Simone Benzoni Eccola qui Elena Curtoni, hai tirato delle curve pazzesche soprattutto nella parte alta della pista intanto possiamo dire di aver ritrovato la Curtoni migliore su questa Olimpia delle Tofani Grazie, sì Secondo me alcune curve le ho un po' controllate, mi sono sentita un po' sicura potevo forse farne di più bene però è comunque una buona manche il tracciato era un po' ostico non era semplice, io ho sbagliato un po' all'ultima lunga qua in fondo ho preso la terz'ultima porta al pelo secondo me lì qualcosina ci ho lasciato dove mi potranno guadagnare le altre ragazze però ho messo in pista quello che so fare e quello che finora mi sta venendo bene Ci ritroveremo, ci ritroveremo più tardi Grazie Elena Curtoni Grazie Elena, grazie